sono la ok appena sotto io sono comodo dipende dal cranio perché sono quelli che hanno il cranio bello bombato e quelli che hanno il cranio più piatto quindi vado a cercare il punto dove riesco ad agganciare ok dopo di che la testa la posso mettere più o meno flessa poco mi importa l'importante è che trovo il side la avete capito che una volta che ho trovato il side mando una leggera ex prendo questa drive line il capo in maniera da andare a chiudere e arrivare un pochino più basso ok il mio appoggio deve essere più basso quindi non sono più in appoggio qua ma sono in appoggio qua mentre qui avevo un appoggio che mi favoriva questa posizione qua sotto faccio più fatica quindi vedete la mano come non ce l'ho più così ma ce l'ho un pochino ci arrivo quasi con i polpastrelli a seconda di quanto avete grossa la mano mi sono spiegato mentre qui mi appoggiamo bene così qui faccio più fatica appoggio più il polpastrello ok poi l'affletto sempre di là e guardate adesso però dove mi trovo non sono più andato qua con il mio corpo ma sono rimasto sull'angolo del lettino in maniera da avere questa drive line sono là e praticamente sto andando a manipolare le cervicali più basse sì certo sono qua così lasciati la sollevo molla questo sconto lo senti che me lo stai portando è la sono la adesso ok ok lui è alto ok io non devo essere sotto la linea del suo capo mi sono alzato ok lo porto la lo ruoto se la costa me l'appoggio qua così ed io ho fatto un po di talk se lo stesso troppo che avevamo fatto qua prima no quindi la spinosa adesso qua qua c'è la costo trasversale e poi sono venuto un po più fuori col busto per far cadere questo vettore che cadesse proprio qua clic piano piano 2 so che devo andare in basso quindi vedi che con le mani ci arrivo riesco a percepire anche quale zona voglio fare no siamo belli bassi posiziono sottolo quanto basta vedete che sono già qua non devo scendere di più perché se scendessi di più sarei dorsale media non mi verrebbe abbasso io col busto sono abbastanza sono più caudale di prima è peccato mi tengo con tutto il pacchetto con l'avambraccio appoggio mano sulla lombare alta e ci troppo che arrivo ma sulla lombare alta vado la ok lo blocco la ok